Come ha avuto il gol? Pensi di poter meritare più spazio o ti accontenti di quello che ti sta dando il mister? Penso che tutti vorrebbero giocare tutte le partite a 90 minuti, poi è normale che in un gruppo l'importante è che tutti siano pronti quando vengono chiamati in causa e io cerco di fare sempre il massimo, di ritagliarmi il mio spazio cercando di trovarne sempre di più, quello poi sta al mister a fare le sue scelte e andiamo avanti così. Cosa è andato a abbracciare uno in panchina? Tutti i miei compagni perché so che è brutto stare in panchina e volevo dedicarglielo a loro perché mi ero appena alzato da lì e siccome siamo un gruppo unito dove tutti ci vogliamo bene, tutti lavoriamo per raggiungere lo stesso obiettivo, ho voluto dedicarlo a tutti i miei compagni. Grazie. 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 Grazie.